quali sono i messaggi chiave che bisogna dare oggi alle imprese quando si parla di security i messaggi chiari il messaggio chiaro per noi è consapevolezza quindi dato il fatto che si sa che la cyber security anche la criminalità la cyber security sono un tema centrale oggi e gli attacchi le minacce sono portate alla vista di tutti la determina del problema la conosciamo consapevolezza vuol dire sapere come sono messo dove voglio arrivare dove devo arrivare in quanto tempo perché il tempo è un fattore anche qui determinante sulla buona riuscita e soprattutto sul contenimento di quelli che possono essere i rischi informatici quindi consapevolezza vuol dire aprirsi vuol dire condividere vuol dire parlarci e fare squadra con il partner e con il vendor ricordiamoci che i cyber criminali sono il nemico comune che va combattuto e quindi da lì partire e integrare o comunque evolvere i piani di sicurezza in conformità alle regolamentazioni vigenti e a quelle che stanno entrando come NIS2 che sarà attiva dal 17 ottobre di quest'anno al 2024 e da di partire con dei piani che siano ovviamente strutturati e che diano degli effetti immediati quindi vediamo le cose importanti da fare subito e poi andiamo ad affinare e che ruolo avete voi di fortinet in questo scenario quello che ha appena descritto e cosa vi rende diversi cioè perché siete unici sul mercato oggi è un ruolo importante perché da un lato consapevolezza vuol dire ovviamente divulgazione vuol dire formazione e su questo fronte noi siamo impegnati ormai da 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 anni per alzare la percezione del tema sicurezza informatica e istruire e quindi dare visibilità ma soprattutto formazione sulle tecnologie ai nostri partner e sul mercato consapevolezza quindi formazione è un ruolo importante altro ruolo importante è portare mercato tecnologia che sia abilitante per le sfide di oggi e del domani fortinet è unica perché annovera più di 50 soluzioni esattamente 52 ad oggi soluzione portafoglio e quindi un'ampia scelta è un'ampia gamma di possibilità di intervento che nostri partner hanno per andare a toccare a fronteggiare ovviamente rischi informatici ovviamente facendo della visibilità dell'automazione del controllo uno dei mantra importanti che la soluzione che le soluzioni che mi portiamo sul mercato che hanno quindi è una piattaforma che ovviamente dà un contributo molto forte al cliente attraverso i nostri partner altra unicità quella più che unicità è una prerogativa che noi abbiamo ovviamente è la possibilità di stare molto vicini ai nostri partner ai nostri clienti con una struttura ampia di vendita di prevendita e che aiuta a capire aiuta a commercializzare aiuta a diffondere le tecnologie sul mercato se ne parla tantissimo ecosistema e valore e che cosa rende diversa e unica proprio la partnership cosa diventa unico l'ecosistema che vi unisce a computer gross intanto fortinet è un'azienda che fa della vendita in diretta il mantra noi vendiamo indirettamente quindi esclusivamente attraverso il canale questo è un nostro una nostra prerogativa che da sempre così e che manteniamo e manterremo va da sé che il valore sull'ecosistema il valore del canale la collaborazione sono siano fondamentali perché siamo parte di una squadra che deve esprimersi sul mercato in qualità di squadra ovviamente ognuno deve giocare al proprio ruolo da un lato ci siamo noi con le tecnologie con la ricerca e lo sviluppo oggi abbiamo più di 1290 patent registrati sono il più del doppio rispetto al nostro prossimo competitor e questa garanzia del fatto che investiamo fortemente in ricerca sviluppo in tecnologia e la portiamo sul mercato ma non è sufficiente quello che poi a noi serve chiaramente avere il tramite perché questa tecnologia finisca nelle mani del cliente che venga utilizzata migliore dei modi in questa direzione la relazione con computer gross che è un distributore a valore ci permette di raggiungere i nostri partner di aprirne di nuovi di divulgare informazioni di fortinet verso il mercato attraverso campagne attraverso la formazione computer gross è un advanced training center di fortinet quindi abilitato a formare figure commerciali e tecniche dei nostri dei nostri partner ma soprattutto è abilitante per raggiungere e collaborare con i partner che poi sono il valore che traduce le soluzioni tecnologiche che noi proponiamo e le esigenze del cliente in progetti di successo